ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora finalmente torniamo a parlare della benelli che so che in italia è una cosa comunque sempre molto gradita e lo facciamo grazie al fatto che ieri mattina benelli ha comunicato i prezzi di molte moto in gamma 2022 tra questi i prezzi anche della nuova leoncino 800 e leoncino 800 trail 2022 quindi in questo video vi ricordo magari velocemente le caratteristiche principali di queste due moto e poi vi dico effettivamente quanto vanno a costare già vi anticipo che secondo me i prezzi sono corretti per quello che queste due moto offrono non aspettatevi dei prezzi super stracciati come vi dico sempre se comunque una moto monta componentistica di qualità la si paga sia che viene fatta in cina sia che viene fatta in italia oppure in austria però secondo me il prezzo è adeguato per come queste moto sono sono fatte per la componentistica invece prima di iniziare magari una piccola parentesi perché ricevo benelli ha comunicato i prezzi di diverse moto appunto disponibili anche quest'anno e una cosa che si nota una cosa che comunque è da lodare che fa onore comunque alla benelli è che le moto più vendute in gamma 2022 hanno mantenuto inalterato lo prezzo rispetto all'anno scorso per esempio la trk 502 l'imperiale 400 e la leoncino 500 che sono moto che l'anno scorso hanno venduto molto bene in italia costano quest'anno esattamente come costavano anche l'anno scorso e non è una cosa scontata visto che vi ho fatto notare nei giorni scorsi che moltissime case concorrenti per quest'anno hanno aumentato i prezzi delle varie moto in gamma 2022 a fronte di nessun miglioramento tecnico rispetto alle moto dell'anno scorso invece in questo caso ecco per esempio benelli poteva tranquillamente approfittarsene visto quanti trk 502 vende in italia poteva magari prendere la palla al balzo e aumentare il prezzo per quest'anno no invece rimane sempre il prezzo di 6 mila euro sia per la versione trk 502 la stradale sia per la versione da fuori strada quella chiamata x quindi questa è una bella cosa comunque da lodare al contrario appunto ricevo delle giapponesi italiane e anche austriache mentre altre moto hanno subito un leggero incremento di prezzo per esempio la leoncino 250 e anche la trk 251 costano leggermente di più ma comunque le più vendute costano come l'anno l'anno scorso quindi questa è una bella cosa e comunque ci tenevo a farvela notare invece per quanto riguarda la trk 800 so che in tantissimi aspettate il prezzo di questa moto ancora benelli non l'ha comunicato quanto andrà a costare quindi vi terrò aggiornati sicuramente diciamo che da questo video magari ci si può fare un'idea su quanto potrebbe costare la trk 800 partendo proprio dal prezzo della leoncino 800 visto che quanto meno motore è condiviso proprio dalla leoncino 800 alla trk 800 chiusa questa parentesi iniziamo con la leoncino 800 abbiamo due diverse versioni vi ricordo la versione quella stradale e la versione quella più da fuoristrada quella chiamata trail abbiamo delle differenze tecniche che poi più avanti nel video ovviamente vi dirò per quanto riguarda l'estetica vi ho parlato diverse volte della leoncino 800 e quindi penso che ormai tutti saprete come è fatta l'avrete vista anche dal vivo all'ultimo eccoma 2021 è una bella moto secondo me entrambe le versioni sono veramente molto carine molto affascinanti fatte bene molto bello il faro un faro che non scopiazza al faro di altre case ma è un faro comunque che denota personalità un faro a led bello anche particolare sempre del leoncino su parafango anteriore inserito anche per esempio sulla leoncino 500 nel complesso comunque due belle moto diciamo che a livello di estetica la versione trail rispetto alla versione normale stradale ha il doppio scarico laterale alto la tabella porta numero e anche il cupolino e poi altre differenze che però sono a livello tecnico invece per quanto riguarda il motore dunque la leoncino 800 ricevo che sfrutta il motore anche della trk 800 è un motore questo bicilindrico cilindrata 7 e 54 quindi si chiama leoncino 800 ma in realtà il motore ha una cilindrata di 7 e 54 con una potenza di 76 cavalli a 8500 giri e una coppia di 67 newton metri a 6500 giri la moto pesa attorno ai 215 chili a secco anche se comunque il dato del peso ho letto alcuni dati un po contrastanti comunque più o meno dovremmo essere su quella cifra altezza sella 805 mm per la versione stradale 834 mm per la versione invece tra il serbatoio 15 litri discorso potenza questo motore discorso coppia diciamo che siamo più o meno allineati alla fascia del segmento entry level delle giapponesi yamaha kawasaki hanno tutte motori con potenze e coppie simili anzi se vogliamo per assurdo questa moto ha più potenza rispetto alle concorrenti giapponesi invece come ciclistica la moto monta un telaio traliccio in acciaio sospensioni niente male con la forcella firmata marzocchi da 50 mm a steri rovesciati regolabile in compressione estensione precarico un doppio disco all'anteriore invece per quanto riguarda l'impianto frenante da 320 mm con pinze radiali monoblocco a 4 pistoncini sono sono della brembo al posteriore invece un singolo disco la 260 mm con pinza a due pistoncini la moto poi è gommata 120 e al posteriore invece un 180 presente l'abs questo per quanto riguarda la versione stradale invece la versione trail essendo più da fuoristrada cambia un po proprio a livello anche biciclistica il telaio è sempre lo stesso la forcella è sempre una marzocchi da 50 mm regolabile però cambia l'escursione sulla versione normale l'escursione della forcella è 140 mm sulla versione invece trail è aumentata a 148 mm mentre l'impianto frenante è lo stesso poi come strumentazione invece c'è un tft e basta in quanto non viene comunicata la presenza di elettronica avanzata quindi ecco la versione trail differenze rispetto alla versione stradale abbiamo le sospensioni con escursione maggiorata abbiamo poi il doppio scarico laterale alto la tabella porta numero e anche il cupolino più mi dimenticavo importante anche cambiano i cerchi perché sulla trail abbiamo all'anteriore un 19 e al posteriore invece un 17 misure delle gomme 120 170 dicevo parliamo a questo punto di prezzi dunque la versione stradale normale la leoncino 800 va a costare 7.490 euro quindi 7.500 euro la versione invece trail costa circa 500 euro in più ovvero 7.990 euro quindi circa 8.000 euro questi qua sono i prezzi della nuova leoncino 800 e leoncino 800 trail che secondo me ripeto sono molto interessanti sicuramente non sono prezzi stracciati però comunque diciamo che ovviamente avendo anche una certa componentistica hanno un certo prezzo non è che le moto le possono regalare no quindi secondo me ci sta sono due belle moto non appena benelli comunque rimetterà in prova magari facendo qualche evento sicuramente vi porterò magari un test ride direi che da questo video vi ho detto tutto aspettiamo quindi che finalmente venga svelato il prezzo della tanto attesa trk 800 però se la versione trail della leoncino 800 costa appunto 8.000 euro secondo me a spanne la trk 800 potrebbe costare non lo so butto lì un 8.500 9.000 euro sarebbe un ottimo prezzo comunque in teoria meno di 10.000 euro magari nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa leoncino 800 se insomma vi piace discorso prezzo e se magari a questo punto volete anche acquistarla vedete un like se vi è piaciuto iscrivetevi non scambio youtube con lo instagram di nebbaker ufficiale noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao